amici siamo in diretta no vabbè come va questo pomeriggio c'è la direttrice che oggi è in vena di coccole e di giochi quindi ben ritrovati ben ritrovati su questo canale benvenuto a chi è nuovo così un canale un po di pazzi e mi fa molto piacere tutti i commenti che mi avete scritto saluto tutti grazie anche a coloro che stanno rispondendo al nostro sondaggio ci risiamo guarda che ti faccio vedere quello che fa in onda vi ringrazio dicevo anche per i commenti link in descrizione invece potete trovare questo devi promuovere così eccolo qui vocabolario milan non ti devi lavare sempre devi dire sto promuovendo il libro perché grazie a questo libro il canale riuscirà a sostenerti guarda che qui la telecamera è lì potete per favore acquistare questo libro link in descrizione amazon verport a casa vabbè è un siamo felici perché scende il milan il milan scende in campo l'ho detto link in descrizione se cliccate ve lo portano a casa e ci sono anche le campane ma vai lo so che adesso adesso diventiamo seri allora lasciatemi lasciatemi dire alcune cose importanti perché al di là di tutto è vero stiamo giocando ma d'altro canto chiusi in casa con questo caldo incredibile sotto l'aria condizionata dobbiamo trovare delle valvole di sfogo perché c'è da considerare un aspetto molto importante di questo momento che sta vivendo il milan il calcio mercato da qualche ora gira una notizia che me preoccupa io lo so che tante volte qualcuno scrive che caspite che caspite ma mica è colpa mia non è colpa mia cioè se tu non riesci a far funzionare il cervello devi andare da uno bravo no allora se in questo momento la pista fofana si è raffreddata perché quelli chiedono 100 e noi offriamo uno non è colpa mia io non ce li ho da mettere 99 quindi in questo momento c'è un problema sulla pista fofana quindi quello che stavo proprio leggendo e che noi continuiamo a seguire giocatori per mesi zir che si zerzeze zerzeze quello lì e poi all'improvviso viene fuori che il costo è troppo alto ma allora io mi chiedo no ma che cosa siete andati a trattarlo a fare io posso posso capire tutto ma adesso un'altra presa in giro su fufana no per cortesia è anche sky sport diciamo che riportano questa notizia la sto monitorando i rossoneri attenderanno la fine della settimana per presentare un'offerta una nuova offerta al monaco quindi tra oggi e domani sarà presentata un'offerta c'è già da tempo l'inter il giocatore vuole il milan il mila vuole il giocatore zirze vuole il milan mi mi lavore zirze poi all'improvviso diciamo perché costava c'è ti siede un ristorante ordine a champagne caviale acquistate il libro link in descrizione e poi a un certo punto arriva il cameriere con il conto ma scusi cos'è questo è il conto a perché si pagava cioè capite no che non è colpa mia e comunque l'alternativa in questo momento sta studiando un'alternativa io personalmente inizio a studiarlo adesso questo richard rios classe 2000 del palmeiras protagonista con la colombia dell'ultima coppa america fofanai da tempo il profilo che la dirigenza rossonera individuato per il centrocampo il milan aspetterà ancora fino al termine di della prossima settimana per presentare dunque presenterà l'offerta tra oggi e domani e poi darà del tempo al monaco per stabilire se ci sono le condizioni l'accordo con il francese è stato ormai raggiunto manca l'intesa con il monaco che continua a chiedere 25 milioni di euro caspita non è che ti sta chiedendo 300 milioni di euro adesso tra l'altro stavo guardando anche questa cosa qui c'è un nuovo sponsor abbiamo preso abbiamo preso come sponsor una tequila cicoro tequila 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 portodos allora prendete i soldi d'esta tequila e dateglieli ma capite che fra un po' vi stiamo prendendo anche un po' per il culo cioè 25 milioni per cosa volete spendere per il vostro obiettivo principale non lo so resta un obiettivo dei rossoneri che spingono anche sulla volontà di fofanà di venire in italia ma solo al prezzo giusto giocatore che tra l'altro il contratto in scadenza nel 2025 l'alternativa fofanà risponde al nome di richard rios nazionale colombiano classe 2000 del palmeiras 29 presenze fin qui in stagione per lui con rios che ha preso parte anche alla coppa america dove con la sua nazionale si è reso solo in finale 1 a 0 appunto gol di lautaro dell'argentina vabbè prendiamo questo allora gioca prevalentemente davanti alla difesa ma può agire anche qualche metro più avanti io non lo conosco per carità di dio sarei un ipocrita a dirvi che lo conosco conosco a malapena fofanà perché comunque nazionale francese eccetera 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 ora la lancio qui questa cosa è adesso penso e spero che siano solo voci di calcio mercato però i nostri primi due obiettivi i nostri primi due obiettivi uno è andato al manchester united perché quando hanno sentito quanto volevano gliel'hanno dati io capisco la trattativa è giusto che ci sia una trattativa però tra una trattativa e l'elemosina c'è una via di mezzo cioè non si può andare al monaco che ti chiede 25 milioni con una proposta di 10 15 milioni è chiaro che ti dicono di no cioè ma come ci vai domani esce tra l'altro un'altra faccenda relativa morata sempre su questo canale quindi vi chiedo di iscrivervi di attivare la campanella per rimanere aggiornati perché perché anche sulla questione con l'atletico madrid ci sono stati e tuttora permangono dei problemi ora io mi vado a vedere milan rapid vienna adesso non so proviamo a fare una diretta nel primo tempo poi vediamo quello che succede però vi voglio lasciare un attimo con questa faccenda perché pensavo all'inizio fosse una di quelle cose che girano sui social di cui il cui valore zero poi a un certo punto è iniziata a riprendere una un'agenzia poi sky sport e poi c'è sinceramente mi fermo qui io mi fermo qui mi dite voi amici a me qual è la formazione al 17 agosto o quale sarà il 30 agosto perché tanto rischiamo di andare alla prima di campionato senza una squadra titolare e poi vediamo quello che succede va bene ragazzi andiamoci a vedere la prima partita mi diverto un po con la direttrice ciao ragazzi ci vediamo più tardi forse in diretta vediamo ciao